Io credo che un problema di sicurezza ci sia un pochino in tutte le città, basta vedere quello che succede, basta vedere le cronache giornaliere. Un problema di sicurezza perché veramente siamo pochi, tutte le forze di polizia sono ridotte veramente ai minimi termini. È chiaro che un fatto come quello accaduto in Piazzale Matteotti non è che si poteva prevenire con una presenza massiccia delle forze di polizia, perché comunque non è che possiamo presidiare ogni angolo, ogni piazza del territorio. È evidente che comunque, visto anche chi ha commesso il reato, c'è un grosso problema in Italia anche per riguardo all'integrazione, all'accoglimento comunque di chi chiede di richiedente asilo. Sappiamo benissimo che questa è una situazione che in tante città sta determinando grosse problematiche, purtroppo anche qui a Pesolo come abbiamo visto. E quindi quando per esempio oggi ho visto che Pieri, Presidente di Aspes, ha detto che comunque installeranno queste telecamere ipertecnologiche per riuscire a individuare le macchine che accedono al centro storico per poterle multare, io penso che invece sarebbe molto molto importante mettere in città, perché è quello veramente lo strumento più importante, tantissime telecamere intelligenti che possono controllare i vari punti della città, che abbiano quindi poi un centro collocato all'interno, non so, della Polizia Locale o della Questura, dove poter in qualche modo controllare tramite i monitor quello che avviene in città, in modo che queste telecamere intelligenti possano dare degli alert immediati, perché lì siamo stati fortunati che c'erano dei cittadini che hanno sentito urlare questa donna, hanno chiamato subito i cremieri che per fortuna erano lì vicino e sono intervenuti tempestivamente. Noi se avessimo avuto lì in Piazzale Matteotti una telecamera intelligente con un lallert, perché c'è un qualcosa di preciso che si muove, una situazione particolare, se non ci fosse stato nessuno in quella piazza comunque avremmo lo stesso avuto un segnale. Quindi ormai io credo che la tecnologia, visto la carenza degli uomini, sia fondamentale, sia importante, e in città ne mancano tantissime e quelle che ci sono tante volte sono telecamere completamente inadeguate.